Avicii Avicii, il 10 agosto arriva il nuovo app AvC Avicii. L'estate entra nel vivo e Avicii sta per tornare. La superstar svedese della musica elettronica ha annunciato ieri sui social media che il suo prossimo app, Avicii, sarà pubblicato giovedì prossimo, il 10 agosto. Avicii. Avicii aveva caricato diverse clip contenenti nuova musica su Instagram e aveva abbinato le canzoni a diversi hashtag che all'apparenza sembravano essere i titoli delle sue canzoni. Avicii. Dopo di andare in tour, aveva mandato delle misteriose scatole a una serie di web influencer, che anticipavano le sue nuove canzoni. Nella scatola un messaggio, che tra le altre cose, spiega, l'addio di Avicii al palcoscenico è stato percepito da molti come un addio alla musica. Ma la fine dei tour non è mai stata la fine di Avicii. Avicii. Anzi, è tornato nel nuovo dove ogni cosa ha un senso, lo studio. La prossima fase di Avicii sarà tutta orientata dal suo amore per la creazione di musica. .